Buongiorno a tutti, sono Simone Fiorentino, dottor agronomo. Oggi parleremo della stazione meteorologica di Elaesian e dei sensori associati. Questi strumenti permettono ad Elaesian di prevedere i patogeni in campo e misurare una serie di parametri utili per il controllo sia delle nostre coltivazioni che dei patogeni. Ma andiamo a vedere specificatamente di cosa si tratta. Infatti la stazione meteo è una stazione wireless che è connessa tramite IoT, in inglese Internet of Things e in italiano Internet delle cose. Ma che vuol dire Internet delle cose? L'Internet delle cose è la capacità di alcune strumentazioni di essere sempre connesse tra di loro e riuscire appunto a dare soluzioni di facile lettura appunto semplici da utilizzare all'utente finale. In questo modo appunto è possibile monitorare i propri campi. La stazione meteo di Elaesian permette di misurare temperatura, umidità e pioggia e calcola anche il punto di rugiada e raccoglie un dato all'ora. Pensate un po' riesce a raccogliere circa 35.000 dati all'anno. Questi dati vengono poi inseriti all'interno di alcuni software gestiti appunto dal team di Elaesian che calcola le percentuali di infezione dei patogeni andando ad inviare sulla app di Elaesian ovviamente delle informazioni non gravi, quindi delle notifiche o delle situazioni di gravità quando siamo intorno o sopra alla soglia di intervento dei patogeni. In questo modo questi dati che sono destrutturati all'inizio vengono strutturati e inseriti nell'app appunto come un messaggio di facile lettura. Inoltre all'interno della app di Elaesian sono presente molte altre sezioni dove appunto oltre ai dati della stazione meteo e quindi alle notifiche e gli alert possono essere individuate le previsioni del tempo, ci sono informazioni riguardo alle attività che possono essere fatte in campo quindi e questo è molto importante perché registrando le attività vengono migliorati gli algoritmi relativi ai patogeni e queste attività possono essere dagli interventi per i patogeni alle concimazioni. Abbiamo quindi gli allarmi che sono delle soglie di temperatura, umidità o pioggia autoimpostate dal produttore e abbiamo infine le immagini satellitari molto importanti per monitorare l'andamento vegetativo e idrico dei nostri terreni. Oltre alla stazione meteo ci sono una serie di sensori che Elaesian offre appunto ai produttori e tra questi ci sono il sensore della temperatura e umidità dell'aria che permette di calcolare anche il punto di ruggiata, il vapor pressure deficit e il delta T. Poi abbiamo un sensore che permette di misurare l'umidità del suolo a una lunghezza di 10 cm e permette di misurare il contenuto volumetrico d'acqua all'interno del suolo per circa appunto un litro d'acqua intorno al nostro sensore. Poi abbiamo l'anemometro che permette appunto di misurare la velocità del vento e può misurare velocità del vento, velocità massima del vento, quindi le raffiche e la direzione del vento. Abbiamo quindi il pluviometro che permette di ovviamente calcolare la quantità di pioggia caduta sui nostri terreni e ha una precisione di 0,2 mm. Abbiamo quindi il tensiometro che permette, simula diciamo l'assorbimento radicale, infatti vede quanto le radici riescono a assorbire acqua e nutrienti dal terreno. Tra gli altri sensori c'è il piranometro che permette di misurare l'energia solare globale appunto nei nostri terreni e se utilizzato con l'anemometro permette anche di individuare l'evapotraspirazione. Infine abbiamo il sensore di bagnatura fogliare che è un sensore molto molto importante perché appunto calcola le ore di bagnatura fogliare ed è molto utile per calcolare le infezioni di patogeni fungini perché appunto come sappiamo i funghi si sviluppano spesso per la presenza, grazie alla presenza di un velo d'acqua sopra le foglie. Oltre a questi sensori la Isian offre molti altri servizi come abbiamo già parlato in altri articoli e in altri video tra cui le trappole come le trappole cromotropiche o trappole di altra tipologia che possono essere appunto associate alle nostre stazioni per avere sempre maggiori informazioni sui nostri terreni. Infine abbiamo anche concimi come bluvite e bluolivo dedicati appunto in questo caso all'olivo e alla vite e anche ad esempio prodotti come le polveri di roccia come il caulino che sono dei corroboranti e permettono appunto di ridurre gli stress della pianta e ridurre l'attacco dei patogeni. Oltre a questi abbiamo molti altri prodotti, rimanete aggiornati, potete seguire il nostro sito www.elaisian.com contattarci anche all'email info-elaisian.com Noi ci stiamo a disposizione, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Grazie